Il Catania delle prime volte, quello visto contro la polisportiva Santa Maria Cilento, la prima sconfitta, la prima partita senza i tifosi etnei e la prima in cui il tecnico Giovanni Ferraro stravolge il modulo iniziale ai titolari. Ad una sola giornata dalla sosta natalizia si interrompe la magia del Catania, che allo stadio Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabate perde l'imbattibilità in campionato. Il cambio tattico che ha deciso di attuare Mr. Ferraro, proponendo ad inizio gara un 4-3-1-2, e, differente dal modulo di routine, 4-3-3 poteva far pensare ad una novità positiva che non consentisse facile lettura agli avversari, ma così non è stato. La gara è proseguita a ritmi lentissimi per la prima mezz'ora di gioco. Il primo guizzo arriva per i padroni di casa al 36esimo con Bonanno, che sblocca il risultato portando avanti i suoi dopo un errore difensivo di non poco conto per gli etnei. Ma la risposta dei rossazzurri non si è fatta attendere. Palermo al 39esimo insacca in rete per l'1-1 e decide il parziale della prima frazione di gioco. In avvio di ripresa, Ferraro cambia le carte, 4 sostituzioni modificando nuovamente il modulo, ma poco cambia anche quando al 60esimo arriva la quinta. La polisportiva Santa Maria Cilento non abbassa la guardia, corre e sorprende gli etnei. Al 76esimo, Tandara, subentrato al posto di Bonanno, a decidere la sfida. L'azione, partita da calcio d'angolo per i giallorossi e l'incertezza in aria piccola da parte degli etnei, ha premiato i campani che beffano la capolista. Certo è che il Catania abbia poco tempo per metabolizzare la prima sconfitta del campionato. I rossazzurri, infatti, sono attesi al massimino mercoledì 21 dicembre alle 14.30, dove questa volta ad attenderli ci saranno il Trapani e i soliti 15.000 sostenitori pronti a salutare la squadra prima della sosta natalizia. Grazie.